ecco qua oh ma guarda che c'è qua Diziano Papais oh Sandro cavoli ma vedo che anche tu ti sei preso la copola e beh la copola è di tendenza è molto di tendenza e poi noi del team che siamo persone di tendenza ovviamente ne siamo coscienti e abbiamo in blocco acquistato una serie di copole da distribuire per tutti i vari componenti e io ne sto in pesca ovviamente ne stai passando una ho capito ma questo qua che cos'è? irlandese o scozzese? no questa è è un calabro siciliana praticamente c'è anche l'opzione scozzese però diciamo che sono più legato alla terra nostra per cui ho deciso un po' di speriamo che porti anche bene perché ho appena slammato un pesce guardiamo Diziano Papais mentre fa qualcosa guardate qua ha appena slammato un pesce si adesso devo cercare l'ammetto va bene con questo salutiamo tutti ciao